Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi facciamo un book tag insieme che si chiama The Reader's Problem Book Tag Io l'ho visto da Ariel Blissett, forse già girava su Bookshop Italia da anni, forse non ne ho idea, tanto io non so nulla, sono come Jon Snow Quindi niente, oggi però il formato è il Get Ready With Me, così io mi preparo per girare video dopo Vabbè, ora voi state vedendo il risultato finale, non volevo partire con un'immagine shock per tutto l'internet E quindi io direi che oggi insomma rispondo a un po' di domande riguardanti soprattutto grandi questioni pressanti di ogni lettore, più o meno insomma E intanto mi preparo, vi faccio vedere come pastrocchio la mia faccia e tanto a voi non ve ne frega niente ed è giusto così E provo un po' di prodottini che in realtà mi avete già visto usare spesso su questo tipo Get Ready With Me E direi di iniziare insomma, l'ennesimo video inutile, però volevo fare anche cose un po' più leggere Visto che sto scrivendo in questo periodo video davvero molto molto consistenti Volevo anche portare un po' di leggerezza, delle cose un po' più frivole perché sennò diventa il canale più pesante di tutto Bookshop Italia Cosa che comunque rimane, ma insomma volevo farvi vedere qualcosa di un po' più leggere Niente, spero che comunque vi piacerà questo video Detto ciò adesso passiamo alla fase iniziale e iniziamo a rispondere alle domande Ok, come tutti i Get Ready With Me che ci sono su questo canale Adesso andrò in oscurità, ovvero smetterò di vedere qualsiasi cosa perché devo togliere gli occhiali E quindi niente, direi di iniziare, vi spaventerete particolarmente perché per il trucco che ho pensato Pensate è una parola grossa di fare, l'idea è di non macchiarmi tutta la faccia Quindi partiamo mettendo, non è vero, partiamo mettendo questo olio secco di Mulac Che io amo e adoro, che mi salva la pelle, che è un olio secco quindi mantiene idratato È idealissimo per chi ha la pelle desertica come me, sembrava proprio una promo questo video Però si secca e si prosciuga in fretta, quindi è veramente una delle cose più belle che esistano E niente, direi però poi di complicarmi la vita e andare a fare la pagliaccia su YouTube Con anche i patch per gli occhi Allora, questo oltre a provare a sgonfiarmi le occhiaie incredibili che io ho Aiuta anche ad evitare, quando fa fallout, il colore che si propaghi su tutta la guancia Vabbè, tanto insomma, non siete qua per un canale serio Quindi niente, direi di iniziare anche con le domande del tag Mentre mi appropinco a fare anche il trucco Adesso arrivo Allora, la prima domanda dice Hai 20.000 libri nella tua TBR, come diavolo decidi cosa leggere dopo? Prima di rispondere, intanto inizio a farmi gli occhi Allora, mettendo una base su Chiuserò come primer Allora, come decido cosa leggere? Fondamentalmente il mio metodo di scelta delle varie letture è casuale totalmente Io ho veramente una quantità di libri non letti, tra l'altro magari la spugnetta piena di cotone che non so da dove derivi No, ho veramente una valanga di libri da leggere sulla TBR Ma continuo a comprarne, rimandarne, eccetera Non perché io sia particolarmente ricca e particolarmente dispendiosa di denaro Ma perché magari in un certo momento quando li compro ho veramente voglia di leggerli Poi magari sto finendo un'altra cosa, eccetera Oppure non ho tempo Però, insomma Poi però, quando devo decidere che libro scegliere Oppure mi sto stancando del libro che sto leggendo e quindi vorrei andare avanti Va a finire che purtroppo se il libro in quel momento non mi ispira Io non mi posso sforzare di leggerlo Perché conoscendomi sarebbe quasi peggio È molto controproduttivo E quindi cosa succede? Io praticamente continuo a comprare libri Continuo a cambiare idea E quindi la mia TBR continua ad allargarsi Perché fondamentalmente nessuno mi può dire cosa leggere Se no io automaticamente, insomma, ho questa forte vena rebelle Che mi impedisce di apprezzare qualsiasi libro che in quel momento non ho voglia di leggere E quindi, niente Quindi fondamentalmente è così che gestisco la mia TBR E come scelgo cosa leggere Cioè, quello che ho voglia in quell'istante Se no, per me si può anche non leggere La seconda domanda invece chiede Sei a metà di un libro e non lo ami? Abbandoni o ti impegni? Allora, io questa è una dichiarazione abbastanza forte Ma ci tengo sempre a farla Tra l'altro, prima di farla, devo farvi la dichiarazione Oggi mi andrò a truccare con la palette di Morphe La 25C È una palette che ho da un po' E che mi è caduta due volte Non una, due E quindi si sono rotti sia il nero Quindi una tragedia in mane Che due colori che tra l'altro erano tra i miei preferiti di questa palette E quindi ovviamente ora sono tutti sparsi Ed è sempre un casino Vabbè, ma comunque non siamo qui per questo Detto ciò, ho un po' una vaga idea di cosa voglio fare Vaga Quindi boh, iniziamo Allora, io vorrei veramente che questa diventasse una regola Da condividere un po' con tante persone Per favore La lettura non è un supplizio Nessuno vi obbliga a leggere cose Perché dovete Non è un obbligo È un hobby Ricordo a tutti Quindi Cioè, sinceramente Se sto leggendo un libro e non mi piace Non mi trovo Non mi ispira Non... C'è qualcosa che non va In quel libro Magari sono io che non vado Eh, banalmente Io lo abbandono La lettura non è un supplizio La lettura non è Che cazzo è successo qua? Vabbè La lettura non è un obbligo E nessuno vi deve obbligare A sentirvi in difetto Perché non avete voglia di finire un libro Se un libro non vi piace Io vi consiglio di abbandonare Perché l'effetto qual è? L'effetto è che Fondamentalmente Finite per odiarlo Fondamentalmente Non vi viene voglia di leggere Fondamentalmente Andate in slump E perché? Per chi? Cioè Che Non so come dire Cioè Quali obblighi vi sentite Nei confronti di un libro? Secondo me Nessuno È sbagliato proprio Sentirsi degli obblighi Nei confronti di un prodotto Che non ci piace Che tra l'altro Non Non ci rappresenta Magari non ci Non ci stimola Non è Tempo occupato bene Per noi E visto che nessuno di noi Ha così tanto tempo Per leggere Perché mai Affliggersi In questo modo? Perché affrontare Un supplizio Del genere? Cioè Chi Ci obbliga? Nessuno La lettura La lettura è un hobby E tale deve rimanere Quindi A meno che voi Non lo facciate per lavoro E siate obbligati E questo è tutt'altro Paio di maniche Lavoro significa Che siete pagati Per fare una recensione Non che lo dovete fare Perché Eh? No? Perché mai? Perché mai Volersi così male? Perché mai buttare via Il proprio tempo In questo modo? Non capisco Sinceramente Perché Io poi veramente Col fatto che Alcuni libri Proprio Se non mi prendono Io non ce la faccio Lascio perdere Proprio Non c'ho voglia Non c'ho tempo Già ho pochissimo tempo Per leggere Meglio utilizzarlo Per i libri che amo Passo alla prossima domanda Che è La fine dell'anno Sta arrivando E sei così vicino Ma così lontano Nella tua sfida Di lettura di Goodreads Cerchi di recuperare E come? Allora Fondamentalmente So che dovrei dire No fregatevene eccetera Poi in realtà A me la sfida Di lettura di Goodreads È una cosa Che mi hanno mandato In crisi Alcuni anni Non chiedetemi Perché Perché non c'è Un vero motivo È successo Quindi Cosa ho fatto Per recuperare Ho letto Diverse graphic novel In quel periodo Se ero molto indietro Ok E l'alternativa Era Banalmente Cercare di prendere Le vacanze di Natale Come periodo Per recuperare Più libri possibili Non ricordo Di preciso Se la cosa è andata A buon fine Anzi Temo di no Conoscendomi Però Non lo so So che è un qualcosa Che alla fine Mette un po' D'ansia È inutile dire Che non sia così Perché quando uno Si fa dei programmi Nella propria testa Poi è difficile Non portarli a termine In tutto ciò Sto usando Cone Dalla Jeffree Star Joe Breaker Palette Quindi Nel senso Secondo me Correttissimo Fregarsene Perché nessuno Morirà Se non finite La vostra Goodreads Challenge Però Capisco che metta Un po' Ansia Detto ciò Io Mi prendevo Proprio I periodi In cui Proprio Intensificare La lettura Dove sapevo Che avevo Tempo Eccetera Magari Non ne ho voglia In quel momento Magari Ho altro da fare Magari Lo prendo Come tempo Per riposarmi E passare Con le persone Con cui voglio Trascorrere Del tempo Quindi Se anche Non finisce La Goodreads Challenge Amen Sinceramente Non cascherà Niente Nessuno Il mondo Andrà avanti Tranquillamente Però Capisco Il fatto Di tenerci Ecco Perché Alla fine Fondamentalmente Rappresenta Anche un po' Una sfida Contro se stessi Più che contro Goodreads Ecco E quindi Capisco Anche Provarci Fino in fondo Fino all'ultimo Secondo Ecco Adesso provo un attimo A scurire gli angolini Andiamo con la prossima domanda Prima di fare degli altri danni Su questo trucco Che sta venendo Terrificante Masticazzi Allora 4 Le copertine di una serie Che ami Non matchano Come affronti la cosa? Allora Sinceramente Io sono la persona Meno preoccupata Dal matching Delle serie Cioè Sinceramente Posso sopravvivere Anche senza Mi dispiace Magari Se per dire Una delle grafiche Della serie È molto bella E poi magari Viene cambiata Sopravviverò Comunque Anche se le due serie Non match Io non sono Una di quelle Che si dispera Se c'è un disastro Però devo dire Che ho visto Fare robe Inspiegabili Dal punto di vista Della casa editrice Che Boh Sinceramente Non comprendo Non condivido Sono scelte stupide E quindi In quel caso Lì magari Un po' Mi arrabbio Perché non capisco La scelta Di cambiare Di fare Casino Fondamentalmente E lì allora Ecco Lì più che altro Ci rimango male Però Se anche non Matchano Si può Sopravvivere Io penso Ci siano cose Molto più gravi In questo mondo Rispetto a due copertine Che non matchano Ecco Mi dispiace Magari Si Lo capisco Lo condivido Però Ragazzi Insomma Non è la fine Del mondo La quinta domanda Dice Praticamente Tutti adorano Un libro Che a te Non è piaciuto Per niente Come ti comporti Ragazzi Io con questa cosa Ci ho costruito Un impero Su youtube No Nel senso Che di solito Le cose che piacciono A tutti A me Non piacciono Oppure Trovo comunque Dei difetti Abbastanza grandi Nelle cose Che sono molto Popolari Quindi Sinceramente Me ne preoccupo Molto poco Capisco Che possono Ci siano prodotti Fatti Magari Per essere Molto appealing Eccetera Io iniziai Con twilight Sono sopravvissuta A schiere E schiere Di persone Innamorate Di twilight Senza amarlo Quindi Tutto ciò Che viene dopo Per me Insomma Molto più facile Che quella fase lì E ricordo Che quando uscì Twilight Ero molto Ero proprio Nel target Ideale Di twilight Quindi chiunque Lo amava Insomma Si può sopravvivere Senza amare le cose Che tutti amano E non c'è nulla Di male Sempre Sempre magari Cercando di capire Ecco Cosa non ci piace Di una cosa Perché quello È più corretto Verso noi stessi Che verso Gli altri Però si può Sopravvivere Anche se una cosa Non ci piace Ecco Che piace a tutti Non c'è nulla Di male Basta sempre Argomentare Ed essere corretti In quello che Pensiamo di un libro Ma non corretti Nel senso che Non possiamo dire Questo libro Fa schifo Perché secondo me A volte è anche lecito Però Più verso noi stessi Cioè capire Se una cosa ci piace Perché piace a tutti Oppure capire Se una cosa Veramente qualcosa Che ci cattura Vado con la prossima domanda Che è la 6 Allora Stai leggendo un libro E stai per iniziare A piangere in pubblico Come gestisci La cosa Allora A me è capitato Diverse volte Non chiedetemi Perché per come Però è capitato Io sono molto emotiva Soprattutto con i prodotti Cinematografici E con i prodotti Letterari Non so perché Perché io non sono Una persona molto emotiva In generale Però I prodotti cinematografici I prodotti letterari Mi commuovono Sempre tanto Forse col fatto Che non sono coinvolta Personalmente Mi rende più facile Questo processo Non lo so Non chiedete A me è capitato L'ultima volta Quando è uscito Quando stavo finendo Brightway Burn La cosa Terrificante È stato Leggere L'ultimo capitolo Di And I Darken Che sapete Che è una delle mie serie Preferite Di Kirsten White Al ritorno Avevo fatto Uno shooting Con una coppia Dolcissima A Cesenatico Ero in treno Tornando Tra l'altro Completamente pieno E Non lo so Mi sono commossa Tantissimo Ero lì Che piangevo E cercavo Di non piangere In pubblico Perché comunque Una signora Mi ha anche detto Ma tutto bene Successo qualcosa Insomma è stato È stato un po' Buffo Non lo so Per me Anche questa cosa È chiaro Che non cerco Di piangere In pubblico Perché detesto Le persone Che si fanno Gli affari tuoi E pensano Chissà cosa pensano Chissà cosa Vanno ad elaborare Nella loro testa Che tu possa avere O non avere fatto Però allo stesso tempo Non lo so Non sono cose Che mi Cioè non sono cose Delle quali Ci forse Dobbiamo vergognare English Ok Ci dobbiamo vergognare Per forza Anzi Cioè non succede niente Se capita Ecco Anzi Secondo me Ci rende molto sensibili A ciò che Stiamo leggendo Cioè forse Un senso molto forte Di mezzesimazione Non vi consiglierei Chiaramente di farlo Continuamente Perché non è Sicuramente molto Carino Ecco Però se capita Sti cazzi Cioè siamo tutti Comunque esseri umani Siamo perfettamente emotivi E quindi Quindi se anche vi capita Non succede niente Ecco Vado avanti E con la 7 Un sequel di un libro Che amavi Appena uscito Mai dimenticato molto Dal romanzo precedente Rileggerai il libro? Salti il sequel? Provi a trovare Una sinossi Su Goodreads Piangi frustrato? Allora Dipende Dipende nel senso che A volte Avendo letto Soprattutto Tante serie Che poi Ci hanno messo Un pochino Ad uscire Tante serie Ad esempio Io non ho La memoria Più ferrea Dell'universo Quindi chiaramente Quando già passa Un annetto Più di un annetto Da quando La serie è iniziata Per me Inizia a diventare Un problema Io veramente La memoria Di un uccellino E quindi Ho dei miei gatti Quando fanno i disastri Quello è più calzante Quindi Succede a volte Che proprio Mi trovo a Non ricordarmi Parti abbastanza Importanti Di un qualcosa Che faccio Allora Se il libro Mi è piaciuto Particolarmente E ho voglia Di ricordarmi Nei minimi dettagli Cos'è successo Chiaramente Magari cerco Di rileggere Anche velocemente Anche con un bel po' Di skimming Eccetera Se il libro Magari In un primo momento Mi era piaciuto Poi ripensandoci Perdo un po' Interesse Nella cosa Che è capitato Molte volte Spesso salto La serie Ci sono tantissimi Oppure Se la serie Magari L'ho letta Poi però Volevo capire Come andava a finire Perché Non lo so Poi però Alla fine Tendenzialmente Anche salto Il libro Adesso mi farò Una cosa imbarazzante Ovvero La riga in mezzo Con la frangia Però sti cazzi E infatti Ultimamente È capitato Molto spesso Che se riniziate Poi io le abbia Rimandate 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 E poi lasciate lì Penso a Renéa Die Con Flame in the Mist Che È un libro Molto carino Però sinceramente Non è all'altezza Della sua serie Precedente Che secondo me Era molto 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 Più valida Ovvero The Wrath And The Dawn La moglie del califo È stato tradotto In italiano E quindi Quindi alla fine Sono passata Per il non leggerlo Penso solo A una serie Che è Oggettivamente Super problematica Dal punto di vista Della scrittura Problematica Nel senso che È scritta Con i piedi Di un troll Ed è molto poco realistica Ovvero An Ember in the Ashesi Il dominio del fuoco Di Sabatair Che leggevo Solamente per sapere Cosa andava Cioè come andava avanti Cosa succedeva Morale della favola È uscito Ripper at the gates Un anno fa Ed era passato Tantissimo Poi ci furono Mille casini Con le copertine Non copertine Di qua e di là Di su per giù Per tra fra E alla fine Ho finito Per non leggerlo Perché non me ne fregava Già niente Dopo troppo tempo Che era passato Ricordavo pochissimo Eccetera Quindi alla fine È andata bene Anche così Siamo sopravvissuti Senza Gravi traumi Ecco Sì di solito Salto Tendenzialmente La serie Se non mi interessa Se no rileggo Allora adesso Tiriamo via Questi Che ci sarà Il disastro Qua sotto Più o meno E vado avanti Con le domande Ovviamente con L'ombretto rotto Di Morphe Ho già fatto Dei danni alle mani Sembra che io Abbia sgozzato Qualcuno Ma va bene Andiamo avanti Andiamo avanti Intanto Dopo mi faccio Sicuramente La base Perché bisogna Mettere a posto Sta roba qua Io uso Come sempre Il mio fondotinta Prefe Che è il Bare Minerals Bare Pro Che è molto leggero Non tanto coprente SPF 20 Quindi Insomma È per me Che non voglio Il mascherone E anche se voi Direte il contrario Dopo che lo metterò Ma tanto Non siamo qui Per parlare di make È solo una scusa Detto Non vuoi che nessuno Prenda in prestito I tuoi libri Come dici Educatamente Alla gente Di no Quando te lo chiedono Ovviamente Allora Io Non amo Prestare i libri Tranne a pochissime persone Che praticamente Potrei metterci una mano Sul fuoco Che A Me li restituiscono Che è la cosa più grave B Che me li restituiscono Nelle condizioni perfette Tra cui tipo La mia migliore amica La mamma Del mio collega Che spesso Mi chiede libri E che tutte le volte Me li riporta In condizioni perfette Mia madre No Secondo me Mia madre no Penso di averle prestato Pochissima roba Perché non mi fido Sì mia mamma È una casinista Come me Quindi chissà Dove finirebbero i libri E poi una mia collega Che è veramente Molto precisa Con cui ho un rapporto Splendido Ecco Per il resto Chiunque mi chieda libri Sa che da me Non li riceverà Mai E quando me lo chiedono Magari una persona Che non mi conosce Molto bene Che mi chiede Impressi tu Il libro Tendenzialmente Dico che l'ho già prestato Sono una brutta persona Però Dico È già fuori Guarda l'ho già prestato A questo mio amico Questa mia amica Eccetera E quindi di solito Eh Mento Sapendo di mentire So che non si mente È una cosa brutta Che odio fare anche io Ma a volte è necessario Per la sopravvivenza Dei propri libri Sì Brutta persona Potete dirlo Però insomma So che In tanti Non amano prestarli Io non amo prestarli Semplicemente perché Troppo spesso li ho persi Non li ho mai più ritrovati Non mi sono tornati indietro Mi sono tornati indietro Non che io sia la persona Non che io sia la persona più Affidabile del mondo Quando si tratta di libri Perché io sono la prima A cui i miei libri cadono A cui i miei libri Fanno una brutta fine Tanto che però Io non li chiedo mai In prestito Agli altri Perché non mi fido Di me stessa Ecco E quindi non fidandomi Di me stessa Non voglio mettere Gli altri in una posizione Scomoda Ecco E allora Adesso come sempre Vado a fare Le occhiaie Con il correttore Di Jeffrey Ovvero Il Magic Star E direi di passare Anche alla prossima domanda Comunque mi raccomando Fate tutti gli screenshot Per i miei me Perché lo so Che i miei haters Non vedevano l'ora Come se poi a me Fregasse qualcosa Di sembrare orrenda Sullo schermo Allora 9 Hai raccolto E messo giù 5 libri Nell'ultimo mese Come superare La crisi di lettura Allora A me Capita abbastanza spesso A volte succede Perché ai libri Che scelgo Si rivelano Dei fallimenti Però Quando capita Su 5 libri Di fila Probabilmente Non è colpa Dei libri Ma è colpa mia Che Non so come dire Probabilmente Non sono Nella condizione Ideale Per leggere Magari sono stanca Come succede Spesso d'estate Magari sono Semplicemente Semplicemente Non nel mood Di leggere qualcosa Io Tendenzialmente Leggo fantasy Però ci sono periodi Durante l'anno Dove diventa Per me pesante Leggere fantasy Oppure Magari a volte Succede Che non ho voglia Di leggere libri In lingua Mi è successo Ad esempio A settembre A settembre Ho letto Pochissimi libri In lingua Perché ero Non lo so Non ero Traghettata Verso L'inglese Non so perché Non mi succede Quasi mai Però a volte Proprio dei periodi Non c'ho voglia E quindi Quando succede Che faccio Quando succede I motivi Possono essere diversi Diciamo Che se succede Che inizio dei libri Non mi piacciono Devo cercare sempre Di capire Che cosa Me li fa mettere giù Se Se il motivo È prettamente Che sto leggendo Il genere Sbagliato Cerco di cambiare Genere Come se il problema È la lingua Insomma Se non c'ho voglia Di leggere in inglese Cerco libri in italiano Che mi ispirino Se il problema È un altro Cioè che sono stanca Non ho voglia Di leggere Non trovo qualcosa Che mi attiri Io faccio sempre una cosa Da vent'anni A questa parte Motivo per cui So praticamente A memoria La pietra filosofale Ovvero rileggo Harry Potter Rileggo almeno uno Dei libri di Harry Potter Perché Harry Potter Mi tira fuori Dalle slump In una maniera Incredibile Che nessun altro libro Riesce a fare Qualsiasi esso sia Tendenzialmente Raramente Rileggo I doni della morte Perché Per me è ancora difficile Sono passati vent'anni Però Devo dirvi che Tutti gli altri Più o meno Li rileggo Almeno tutti Una volta l'anno Almeno una Allora Intanto Con il compact powder Di Puro Bio Vado a Settare un pochino La situazione In maniera molto leggera Perché io ho la pelle Secchissima Quindi se ci metto Degli strati Esagerati Di stucco Poi finisce Che mi fanno Le crepe Perché ripeto Che io ho la pelle Secca Secca Come poche cose Al mondo E poi con il Shade and Light Di Kat Von D Vado a fare invece Un po' di contouring Giusto da Rendermi un po' meno Vampira E intanto vi leggo La penultima domanda Che chiede Ci sono così tanti libri nuovi Che stai morendo Dalla voglia di leggere Quanti ne acquisti Effettivamente? Allora Questo mi dà anche La possibilità Di chiarire un grande punto Che per me è molto Importante Allora Io collaboro con Diverse case editrici Diverse vuol dire Che sono sempre poche Quindi ricevo tendenzialmente Qualche volume Collaboro tendenzialmente Con Oscar Volt Collaboro con Bao Publishing Con Tunue Collaboro con Edizioni EO E pochi altri Come loro in maniera Continuativa Ecco Quindi Anche se può sembrare Che a tutti Bookshuber Arrivano così tanti Libri Per me ad esempio La spesa Media Di libri Che faccio all'anno È così superiore A tutti i libri Che ricevo Che comunque ne ricevo Un po' Ma non è che Esauriscono la mia TBR Diciamo Anche perché Non sempre ciò che mi mandano È ciò che voglio leggere Motivo per cui Ho pochissime collaborazioni In corso Proprio perché Non voglio sentirmi Obbligata a leggere Cose che non mi piacciono Quindi Fatta questa mega premessa Che magari molti di voi Già davano per scontato Perché Insomma È abbastanza scontata Su questo canale Forse O forse no Me lo potete dire Io spendo Tantissimo In libri Credo Credo sia la mia Maggiore spesa Durante l'anno A parte il meccanico Per la macchina Ma ho appena cambiato La macchina Per non spendere Così tanti soldi Quindi Di media Io Mi faccio ispirare Ho una TBR Lunghissima Una lista dei desideri Enorme Su Amazon Eccetera Quindi cerco di prenderne Almeno un po' alla volta In modo da poter leggere Soprattutto Le cose Che mi attirano molto Che mi piacciono Che ho voglia di leggere Eccetera E non le cose Per cui devo sentirmi Anche obbligata Ecco Perché non credo Almeno per me La lettura Deve sempre rimanere Un piacere Non deve diventare Un obbligo E anche perché Se diventa un obbligo Dover finire i libri Mi dovrei fare pagare Sinceramente Poi è ovvio Che tra le cose Che mi mandano Ci sono soprattutto Le cose che richiedo io Che ho voglia di leggere Però È vero anche Che non lavorando Per nessuna casa editrice Da quel punto di vista Lì Non vedo perché Io dovrei Sentirmi obbligata A leggere volumi Che non mi interessano Ecco Ma poi Non è una cosa Che mi piace vedere Non è una cosa Che mi attira Quindi Perché mai Dovrei finire A fare letture Di cose Che non Mi piacciono Cioè Mi bloccherebbe Molto come lettrice Detto ciò Forse questa È una premessa inutile Però Ci tenevo a farla Perché leggo spesso Tutte polemichette Nate da utenti Che ti fanno notare Che l'hai ricevuto gratis Che hai fatto A me non è mai capitato Sinceramente Però Spesso capita Ad altre persone Quindi insomma Penso che lo vediate Anche dai miei wrap up Quante siano Le collaborazioni effettive E quante invece Siano Libri che prendo io Che magari nessuno Ha mai cagato Eccetera eccetera E poi magari Se ci sono case editrici Che mi propongono Titoli che a me Ispirano particolarmente Non vedo nulla di male Però io spendo Veramente tanto In libri all'anno È la mia maggiore spesa Sicuramente Quindi Sì Non saprei neanche Quantificare Perché dipende Da mese in mese Dipende Quante spese ho avuto Durante il mese Eccetera Però Quello e il cibo Sono le mie maggiori spese Ultimissima domanda Così mi faccio L'eyeliner E poi vi rispondo Non vedevi l'ora Di mettere le mani Sopra alcuni libri E dopo averli acquistato Per quanto tempo Rimangono sullo scaffale Prima di leggerli Minchia lunghissima Sta domanda Allora Dipende È un po' Per il discorso Che vi facevo all'inizio Dipende Perché a volte Li compro Perché ho la necessità Di leggerli Subito Ho lasciato di là L'eyeliner Allora Di eyeliner Uso Formula pura Di In questo caso Che lo sto provando Formula pura Di Deborah Che non mi sembra male Per nulla Anche se lo sto rovinando Praticamente Faccelo da un bel po' Non riesco a fare L'eyeliner Mentre parlo Quindi faccio l'eyeliner E torno a rispondere Ok Più o meno Senza grandi danni Ho fatto Allora A volte Io acquisto Davvero dei libri Perché Ho la necessità Di leggerli Subito E quindi Il giorno in cui Arrivano Li inizio Molte volte Invece Magari ho visto Un video Ho letto Un articolo Che ne parlava Eccetera Quindi sono Super Incuriosita Di un certo titolo E l'ordino Detto ciò Però non sempre Magari appena arriva Lo inizio E questo è molto strano Lo so Però Insomma A parte tutto Metto l'illuminante Che è il Basic Marble Di Cosmify Sempre quello di Gaia Perché è talmente grande Che lo finirò L'anno del mai Però un ottimo illuminante A volte l'inizio subito Altre volte no Purtroppo E quindi Magari io Ho dei titoli Che ho acquistato Preso dal momento Perché sembravano La cosa migliore Del mondo Poi una volta Che sono arrivati Sono rimasti Sul mio comodino Per secoli Ce ne sono veramente Di scandalosi Nella mia collezione Scandalosi Nel senso che hanno Superato più Dell'anno Stando fermi lì Però E poi mi succede In realtà Più spesso Quando compro Dell'usato Ovvero Magari sono nei mercatini Vedo dei titoli Costano talmente poco Che li prendo E poi mi rendo conto Che in realtà Non è stata una grande idea Comprarli Perché Prima che vengano letti Passeranno secoli Però Spesso poi vabbè In realtà Compro classici Ai mercatini Cose che non ho Cose che non ho più E quindi giusto Da arricchire La mia biblioteca personale O cose che ho già letto Magari non trovo più O non ho più Non trovo più È facile Tanto che ho tre copie Tipo di Della Luna e Falò E ho Almeno due Agota Christophe Direi Per non parlare Di altri Dostoievski Che hanno almeno 20 edizioni diverse Perché Ah ma non ce l'ho No ma sono Chissà dov'è Forse Vabbè Quelle robe lì Tanto pagate Tipo uno Due euro L'uno E niente Quindi di solito Capita con quell'ora Però visto che ho finito Il trucco Fondamentalmente Potrei anche Mettermi gli occhiali Non so cosa sia Saltato fuori Spero che sia una roba Accettabile In camera E niente Come sempre Sapete che io sono Molto Casinista Quando faccio questi video Ma alla fine Si fa per chiacchierare E niente La cosa che Forse Più Mi dispiace Che davvero Compro cose Che poi magari Non leggo E quindi Proprio quello mi sta A parte che davvero Casa mia È sempre più Invasa dei libri C'è un problema grosso Noi non abbiamo più Un tavolo In sala Dove mangiare Perché È completamente Sommerso Dai libri E io Fate conto che ormai Non devo neanche più Montare il cavalletto Perché Appoggio la macchina Sulla pila di libri Questo è lo stato In cui verte la mia casa Che è chiaramente Insostenibile E quindi È anche per questo Che sto cercando Di venderne il più possibile Soprattutto di tutte le cose Che Non so Trovavo nelle box Ho comprato E poi Boh alla fine Non mi sono piaciute Oppure non ho letto E Eh Perché Penso che i libri Devano Soprattutto vivere Con chi li può apprezzare Non con chi li lascia lì A prendere polvere Su un pezzo di legno Perché non so dove metterli E niente Io direi che Per oggi è tutto Perché siamo arrivati Alla fine del tag Io Taggo Chiunque Chiunque si può sentire Taggato In questo book tag Che è carino E insomma È molto facile da fare E direi che Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao